Maxi, c'è lì dal quadro, eh? C'è la mamma Ciao Daniel Ciao Maria Grazia Bene Te Cristina Ma su te lo so si Monica Fai un po' a summa No, tu non ci sei mai per l'acqua i per per comitato per 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 la voce 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 levas tutti spalle ma che cazzo fai la voce la voce la voce ли il 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 av la vetto il Grazie a tutti.